Il prossimo brano è un altro tipo di problemi e sensazione, è ispirato da una persona che ho conosciuto qualche anno fa, e si ritornava in la sua e per cui non avrebbe difficoltà a capire come si chiama questa persona, e lei stessa mi ha scritto Mi sento un'onda, una di quelle che vedi, senti e godi quando guardi il mare, uno di quelle che ha la forza di formarsi, di percorrere il migliore di chilometri problemi, e le sparte adesso dispone sempre di lui e di ridonare la sua estrema felicità alla totalità, una persona molto piena di energia e di voglia di vivere, e mi ha dato tutto l'ispirazione per questo brano, che in realtà è anche un panzer per chi conoscesse. La mia storia è un'onda, una persona che ha la forza di un'onda, una persona che ha la forza di un'onda, di unaенное, una persona che ha la forza di un'onda, una persona che ha la forza di un'onda, una persona che ha la forza di un'onda, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.